Ben trovati alle TG7 Basilicata. I vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza oggi intorno alle ore 10 circa sono intervenuti sulla SS 658 direzione Melfi nei prassi dell'uscita di Lago Pesole nel comune di Avigliano per un incidente stradale. Un'autovettura infatti ha tamponato un autocarro che si era arrestato al semaforo presente per lavori. All'arrivo del personale dei vigili del fuoco il conducente dell'autovettura è già stato estratto dall'abitacolo dal personale sanitario intervenuto. A cura dell'associazione culturale Savoia Terramia col patrocinio del comune di Savoia di Lucania il progetto Cantare la tradizione. Alla base di questa idea progettuale vi è la volontà di portare avanti la ricerca e recupero la diffusione della conoscenza delle tradizioni salviane e lucane attraverso l'analisi della letteratura e le indagini sul campo. Questa antologia musicale unisce infatti e mostra il parallelismo tra la tradizione salviana e quella di Tricarico. Si è cercato non a caso di riportare i brani ritenuti più espressivi sul tema dell'amore nei canti popolari. Il dramma della povertà contatina è particolarmente evidente nel brano Munachella di cui si riportano le due versioni, quella salviana e quella di Tricarico. Tra i brani analizzati il più rappresentativo, il canto all'organetto Lumareano con il ritornello Uria di Ventana Verda Spina, da cui questo lavoro prende il nome. Le voci del presebre, arti e ritratti della comunità aviglianese. Questo è il nome del progetto a cura di Basilicata Cultura in collaborazione con il comune di Avigliano. Si tratta di un'esperienza audiovisiva narrativa itinerante alla scoperta del territorio aviglianese e degli antichi mestieri che ne rappresentano l'identità e l'autenticità. I protagonisti sono persone reali che abitano e lavorano tra Possidente, Lago Pesole, San Nicola, Sant'Angelo e la stessa Avigliano e che raffigurano quei personaggi del presepe quasi sempre in secondo piano rispetto ai ben più noti protagonisti della natività. Si presentano attraverso suggestivi audio racconti comparendo contemporaneamente come videoproiezioni in formato gigante sulle superfici di edifici e chiese delle location interessate per poi ritrovarsi uniti sotto la luce dello stesso proiettore in un collage di ritratti conclusivo che riassume questo presepe assolutamente inedito. Io come ogni sera vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento domani.